Ritmi di lavoro non più sostenibili, l'attacco al welfare, la ventilata chiusura della mensa di via Crispi prevista per il 28 febbraio e anni di blocco del turnover. Sono solo alcuni dei motivi che hanno spinto un centinaio di dipendenti di poste italiane a riunirsi in un'assemblea unitaria indetta da CGL Cisle Will e da tutte le sigle dei sindacati autonomi. L'incontro si è svolto in mattinata nella sala Avis del Favaro e sono bastate poche ore di assemblea per raccogliere oltre 100 firme. Vogliano chiudere l'unica mensa che c'è a disposizione sul territorio della provincia di La Spezia che è quella ubicata presso il CDM Crispi in via Crispi dove c'è il grosso dei lavoratori di poste italiane che si occupano della distribuzione delle lettere ai cittadini. Questa mensa deve restare aperta perché è un momento molto importante per i lavoratori all'interno della propria giornata e quindi deve rimanere, con 15 minuti di pausa non riescono neanche a immaginare un'alternativa i lavoratori del CDM Crispi. Una doccia fredda sul welfare aziendale che si aggiunge a un'altra serie di problemi legati alla produttività e alla carenza di personale. I numeri in teoria ci sono però purtroppo nella pratica sappiamo benissimo che tali numeri sono insufficienti perché quando si deve coprire ferie, malattie o permessi vari. Ecco, farei una comunicazione anche per gli utenti perché tante volte è facile magari innervosirsi davanti a code, agli sportelli, però bisognerebbe anche mettersi nei panni di questi lavoratori che stanno dietro gli sportelli. Sì, io immagino stamattina quante persone si sono legate nei nostri uffici e hanno visto quel cartello che era chiuso per l'assemblea sindacale. È vero, noi da clienti riusciamo difficilmente a immaginare quello che c'è, ma dall'altra parte c'è una carenza di personale ormai cronaca nella nostra provincia. Quell'ufficio che ha meno sportellisti perché per questa ragione riesce a fatica a dare il servizio che lo stesso sportellista avrebbe in mente e voglia di dare. C'è questa mancata comunicazione ai vari livelli tra clienti, utenti e lavoratori. Tra le problematiche messe in evidenza anche quelle relative alla sicurezza dei portalettere. Manca infatti la manutenzione ordinaria ai mezzi di trasporto. È già partita una gara di fornitura di nuove auto, però purtroppo i tempi sono molto lunghi perché poi ora le gare diventano a livello europeo. e diciamo abbiamo delle situazioni in certi centri di distribuzione che non sono fra le migliori. Troviamo difficoltà a far sostituire le gomme usurate in quanto i freni o altre cose. Quindi ci costringano ad usare magari un mezzo più volte o da più persone. Grazie. Grazie.